Una città nata come porto di una parte d'Europa e quando parliamo dei suoi gioienti parliamo ad esempio di questo porto vecchio da cui vi è iniziata dalla nostra visita. Perché effettivamente non si tratta soltanto di una filiera che funziona meglio, è proprio quello di creare una rete della portualità regionale che crei quella sinergia importante è una associazione della rete sostente, quindi la possibilità di raggiungere nel meno tempo possibile Venezia e da Trieste come da Trieste e Milano. Relativi ai primi tre mesi del 2016 confermiamo la bontà del lavoro fatto con una crescita importante. Il 40% del petrolio tedesco, il 100% del petrolio austriaco e il 40% del petrolio della Repubblica cieca al porto di Trieste e Porto Franco che ha questa possibilità. E adesso questa possibilità, non su infrastrutture come dicevo prima, ma su questi per cambiare il modello di sviluppo che fino ad oggi ci ha caratterizzato, abbiamo bisogno di fare quello che ha detto benissimo Roberto Cosolini, cioè di partire da mare, non discussa, non aggiornata, non considerata ed è colpa nostra noi politici che non abbiamo saputo mettere l'economia, il sannuovamento dell'approccio, il tema della portualità della logistica per noi che non significa appunto quello che diceva bene. Complimenti da parte del Ministro del Rio sul porto di Trieste, non solo per i trattici ma anche per le sue strategie. Devo dire una grande soddisfazione, una grande soddisfazione perché è veramente il lavoro che stiamo facendo fin dal primo giorno del mio insediamento, devo dire un lavoro che abbiamo saputo fare ancora di più e meglio con l'arrivo del commissario dell'autorità portuale e del segretario generale del porto, un lavoro di squadra insieme al sindaco Cosolini che ci ha permesso davvero di lavorare sia sul porto nuovo che sul porto vecchio e quindi le grandi opportunità per Trieste sono straordinarie. A chi chiede di poter riavere la città di Trieste del 2011, io dico che non vogliamo la città del 2011, vogliamo fermamente quella del 2016 lavorare per quella ancora più ambiziosa che arriverà in futuro.